Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Ho appena finito una recensione, sono raffreddatissimo, quindi perdonatemi questa voce e le mie condizioni attuali. Allora, oggi voglio farvi conoscere il trapano avvitatore della Parkside da 20V con percussione, venduta a Lidl il 28 dicembre 2023 a 119€. Sono distrutto. Allora, si tratta appunto di un trapano avvitatore molto simile per quanto riguarda la configurazione di vendita al modello 80 Nm di circa tre anni fa, che poi non è stato mai più riproposto. Questo viene venduto all'interno di una valigetta con tanti accessori all'interno, infatti 119€. Effettivamente non è tanto per questo avvitatore, perché considerate che questo costa super giù una cinquantina di euro, poi considerate che le due batterie, il caricabatterie sono circa altri 50€ di valore, quindi come prezzo dell'utensile in sé ci siamo. Poi c'è la valigetta fatta molto bene, più tutti gli accessori che però non vi farò vedere, come ho fatto la volta precedente vi darò un accenno. Concentriamoci sull'utensile per cercare di capire se è un prodotto adatto a tutti gli hobbysti, perché ci sono alcune caratteristiche che possono essere negative per alcuni utilizzatori e positive per altre, quindi vi farò un'analisi, vi farò capire come funziona e poi voi deciderete se effettivamente può fare per voi oppure no. Ora cambiamo inquadratura e guardiamo come si comporta, ma prima voglio augurarvi buon anno, perché questo dovrebbe essere sicuramente l'ultimo video del 2023 che sto registrando negli ultimi giorni di dicembre, quindi spero di pubblicarlo entro la fine, quindi entro il 31 dicembre sera dovrebbe essere già online, mal che vada, 6 primi di gennaio, buon anno lo stesso, ancora è valido. Quindi ora cambiamo inquadratura e guardiamolo. E allora, apriamo la confezione, tra l'altro qua dietro c'è il modello senza percussione al quale diciamo lo confrontiamo, mi confronterei più a questo che al modello 80 Nm. Una volta aperto la scatola troviamo la nostra valigetta con all'interno il prodotto, magari diamo pure un'occhiata rapida pure alla confezione, troviamo l'illustrazione, l'elenco degli accessori, le caratteristiche tecniche, quindi 64 Nm e poi il numero di giri e tutte le altre caratteristiche che sono riportate da questa parte, quindi ok, alla prima velocità avremo un numero di giri regolabile tra 0 e 630 al minuto, invece alla seconda velocità da 0 a 2100 al minuto, quindi molto veloce, adatto anche per praticare fori sul cemento, eccetera. Invece per quanto riguarda il numero di percussioni, ovviamente se attivate la funzione specifica altrimenti sarà semplice a rotazione, sarà regolabile di conseguenza alla velocità da 0 a 1810 percussioni al minuto e invece da 0 a 36000 alla seconda velocità. Dette queste caratteristiche che magari a qualcuno non interessano, vediamo direttamente il contenuto all'interno della valigetta, della confezione, che la stessa tra l'altro è superiore per quanto riguarda la qualità generale rispetto al modello precedente, quindi lo apriamo, all'interno un po' più ordinato trovate manuali di istruzioni, sia per quanto riguarda l'avvitatore che è il caricabatterie e le batterie, quindi lo stesso caricabatterie, due batterie 20 volt da 2 ampere ora, sono uguali una già montata, l'altra invece è da montare, quando vi arriva la batteria non sarà carica al massimo e va assolutamente ricaricata, tramite questo tastino si consulta poi il livello di carica. Tra l'altro questo avvitatore, come tutti i performance dell'ultima generazione, ha anche il ready to connect, quindi si può collegare l'applicazione per gestire alcuni parametri, che però non vi farò vedere. Questa è l'impugnatura laterale che serve per avere una maggiore gestione, sia per quanto riguarda la sicurezza che la precisione, troviamo anche una stina di profondità per regolare la profondità dei fori e quindi ripeterli sempre allo stesso modo, qua troviamo anche questa spugnetta protettiva, tra l'altro questo si può rimuovere, quindi se volete potete utilizzare per altri scopi la valigetta all'interno del laboratorio, si può rimuovere sia questo della parte superiore che quello nel cassettino che vi faccio vedere immediatamente, quindi si apre con queste due chiusure, si fa scorrere e all'interno troviamo gli accessori, tra cui un flessometro, questa specie di caccia vita con l'innesto esagonale, un altro però con la funzione di cricchetto, quindi comodo nel caso in cui vogliamo avvitare senza girare in continuazione il polso, poi troviamo due confezioni di inserti, sinceramente non sono la qualità di questi, sono quelli dorati, in teoria questi se sono uguali a quelli che vengono venduti singolarmente alla Lidl, dovrebbero essere buoni per la maggior parte dei lavori da hobbista, in ambito professionale ovviamente potrebbero dare qualche noia, vediamo se sono uguali oppure, ok, questa volta ne hanno fatti diversi, la volta precedente se non ricordo male erano uguali, quindi questa volta sono misti, abbiamo una bella varietà di inserti, e qua delle punte di travano, pure in questo caso non penso che siano di alta qualità, però sicuramente per iniziare comunque non siamo sprovvisti, possiamo praticare qualche foro, e ci sono sia punte per legno, per il muro e per il ferro, adesso rimettiamo tutto a posto e facciamo le prove necessarie a capire come si comporta questo utensile, e tra l'altro se voi provate ad acquistare comunque sia online che nei negozi fisici, una rassettina di questo tipo fatta così bene, con il cassetto con le guide, le varie chiusure, angoli rinforzati eccetera, almeno ci saranno 60-70 euro di spesa e forse di più, quindi nel complesso ancora conviene, sempre che l'utensile funzioni. E allora, prima impressioni, confronto rapido con il modello da 60 Nm, quindi quello senza percussione, sono praticamente quasi identici, una piccola differenza sulla lunghezza, perché qua abbiamo il meccanismo per la percussione, per quanto riguarda il peso, le dimensioni generali, possiamo dire che sono praticamente sovrapponibili, sono quasi uguali, forse questo è un centimetro più alto, sì, tutto giù diciamo che è solo lo stesso utentile, solo che questo ha 4 Nm in più dichiarati e la funzione di percussione. Allora, sulla parte iniziale abbiamo un mandrino, allora in questo mandrino non vedo il marchio, quello precedente era della ROM, era dritto, funzionava benissimo. Vediamo anche questo come gira, vi faccio vedere direttamente a vuoto e poi mettiamo pure una punta. Allora, visto così gira benissimo, non dovete mai guardare la ghiera che riveste il mandrino, questa potrebbe anche essere fuori asse, perché è coassiale al mandrino stesso, ma lo riveste, è un'impugnatura, infatti, che ci serve per aprire e chiudere. E tra l'altro l'apertura e la chiusura va fatto sempre a motore spento, utilizzando il mandrino, girandolo in questo modo e poi serrandolo con la mano. Ha il sistema spin and lock, quindi il mandrino rimane bloccato e possiamo girare solo il rivestimento. Quando sentiamo questi click, questo ci fa capire che la punta è stretta al suo interno. La rotazione del mandrino ovviamente viene attivata da questo tastino, è regolabile in base alla pressione che daremo, quindi più premeremo, più velocemente ruoterà e in base alla velocità che sceglieremo da questo tastino, quindi questo scorrevole, sarà ancora superiore a due marce. È come se avesse la prima e la seconda marcia. La prima marcia è quella più potente ma meno veloce, la seconda marcia invece è più veloce e meno potente. Quindi così il motore gira sempre alla stessa velocità, ma quello che cambia come rotazione è il mandrino. A rilascio, come sentite, c'è una sorta di sgranatura, questo è normale, non è un difetto, quindi spero che si riesca a sentire dal microfono. Questo non è un difetto e l'arresto del mandrino non è immediato, quindi non ha il quick stop, si ferma in modo graduale, perché qualcuno nei primi modelli giocava in questo modo e il mandrino si apriva, forse hanno evitato per questo motivo. Allora, continuiamo a parlare delle cose però importanti. Illuminazione sulla parte bassa, quindi che ci fa vedere la zona nella quale stiamo andando a forare, basta premerlo leggermente, si accende la lucina, rimane accesa qualche secondo, se non facciamo più nulla si spegne automaticamente. Vi ho detto che è un trapano però dotato sia di funzione di percussione, di funzione di avvitatura e di funzione di semplice foratura. Infatti tramite questo selettore sulla parte alta, se posizionato al centro, attiveremo la frizione che ci dà la possibilità di bloccare il mandrino quando arriveremo alla fine della sua corsa, come io, la corsa della vite. Quindi evita di dare 64 Nm direttamente alla vita, se si tratta di viti piccole. Infatti adesso fermerò la rotazione del mandrino con la mano, proverò a prendere il tastino e sentirete un click continuo. Questa è la frizione che lo fa sgranare e quindi diminuisce la forza. Più io vado avanti, più sarà difficile fermarlo, fino a quando appunto mi scivolerà dalle mani. Poi portandolo alla massima coppia, in quel modo è quasi quasi un' esclusione totale della coppia, ma se vogliamo toglierla del tutto mettiamo in modalità foratura e anche se la frizione sarà messa al minimo, non verrà considerata, quindi continuerà a ruotare. Poi abbiamo la funzione di martello, quindi di percussione. In questo caso non è una percussione come gli avvitatori ad impulsi, ma una percussione nel senso di foratura, quindi martella in questa direzione e ci facilita la perforazione dei muri più duri. Per i forati, per i muri semplici, il tuffo eccetera, non utilizzate la percussione. Ho fatto pure un video sulla percussione, vi lascerò il link giù, però sul cemento o su altri muri sicuramente rende più veloce, certo non è un tassellatore, però rende più veloce la foratura, dove non si riesce con la semplice rotazione, a patto che si utilizzino comunque delle punte di buona qualità, con la percussione invece si riesce. Quando attivate il martello, come vedete, il mandrino arretra. Questo non è un difetto, è normale su tutti gli avvitatori e i trapani che hanno questa funzione. Quindi adesso mettiamo subito qualche pezzo per fare delle prove, proviamo ad abitare delle viti e per fare questi test non voglio fare dei test estremi. Vi ho detto che vi servirà per capire se va bene oppure no. I professionisti in realtà sanno già come funzionano questi attrezzi, 64 Nm gli fanno capire cosa può essere utile e cosa non può essere utile. Un hobbista invece che vuole acquistare per la prima volta un trapano di questo tipo, tutto fare, si vede che ho quasi la febbre. Un trapano di questo tipo, tutto fare, vuole sapere se può utilizzarlo in casa, nel laboratorio, se può fare dei piccoli lavoretti di falegnameria, eccetera. Quindi mi limiterò a delle viti che sono lunghe al massimo 8 cm, le viti da 30 cm, poi possibilmente in un altro video farò altre prove. Oggi voglio comportarmi bene, voglio fare delle prove che siano effettivamente utili a voi per capire se comprarlo oppure no. Quindi iniziamo. Prendiamo gli inserti che troviamo in dotazione, vediamo anche la qualità generale, così a prima impressione, colpo d'occhio, qua c'è una piccola deformazione, non penso che influisca. Vediamo sull'intaglio, quindi facciamo la prova a mettere una vite. Ok, PZ3 non è proprio il massimo, vediamo se la vite ad avere qualche problema. Ok, ha qualche gioco, qualche giochino su questo c'è, su questo, su questo molto molto meno, quindi qualcuno è un po' meglio dell'altro. Allora, questa è una vite lunga 8 cm, con il diametro da 6 mm. Proviamo ad avvitarla, mettiamo l'avvitatore con una frizione intermedia, mettiamola a 13, e proviamo a fare questo lavoro in questa parte di questo asse di legno. Quindi, velocità numero 2, che è quella che in realtà è più difficile, perché come vi ho detto poco fa, più veloce, ma meno potente. Ma da un avvitatore di questo tipo, con una vite del genere, io mi ipotizzo, mi auguro che riesca. Ok, magari lo faccio in senso orario, questa febbre mi sta distruggendo. Ok, è arrivato, come avete visto, la frizione si è attivata, e quindi ha affondato, ora ho dato altri due colpi, è andato un po' più giù, ma ha affondato la vite, facendo fermare la testa perfettamente a filo. Facciamo un'altra prova qua a fianco. Perfetto, quindi ho azzeccato, per fortuna, perché non lo sapevo, con la frizione impostata a 13, la frizione è corretta, per poter avvitare le viti per bene. Sono andato un pin diagonale, però alla fine il lavoro è riuscito perfettamente. Però, volevo farvi vedere un dettaglio, perché già mi sono accorto, la frizione non è molto morbida, e questo in alcune occasioni può essere un male. Per esempio, abbiamo fatto una prova con la vite più grande, facciamo la prova con la vite più piccola, quindi prendiamo un inserto PZ2, sì, in questo caso l'inserto è fatto molto meglio, però diciamo un po' a fortuna, forse, per questi inserti. Vediamo, vi faccio vedere quindi il discorso di poco fa. Utilizziamo la velocità numero uno, perché la vite è molto piccola, quindi riesco a gestire meglio la rotazione. E la frizione dura, non penso che riesca a fermare la rotazione, quindi nel caso in cui io stessi costruendo un mobile, riparandolo, eccetera, o se fosse materiale morbido come plastica, eccetera, rischerei di romperla, ma vediamo se è vero. Quindi io continuerò a premere il tastino e mi aspetto che la frizione interrompa la rotazione. E invece no. Arriva fino in fondo. Questo non dovrebbe farlo, perché un avvitatore con una frizione che è adatta per un lobbista, dovrebbe in realtà bloccarsi. È una caratteristica comune anche all'altro avvitatore da 60 Nm. Quindi facciamo la stessa prova, avvitiamo le vite a fianco e vi faccio vedere che si comporta praticamente allo stesso modo. Quindi, come avete visto, sia su questo che su quello, non è proprio gestibilissimo sulle viti così piccole, però ovviamente poi sta anche a noi fermarci prima, perché se io devo avvitare questa vite, ovviamente metterò la frizione sempre al minimo, nella speranza comunque che mi possa aiutare, però dato che ho la pressione del grilletto regolabile, io potrò fermarmi quando vorrò. E quindi riuscirò ad avvitare le viti anche su superfici più morbide, fermandomi nella profondità corretta, quindi per evitare di danneggiare. Adesso facciamo la prova con la vite da 5 cm x 5 mm di larghezza. Quindi facciamo una prova qua a fianco. In questo caso, come vedete, si ferma, pure qua ho dato due colpetti in più, quindi è scesa leggermente, proprio mezzo millimetro, però al primo colpo la frizione ha funzionato e ha fermato la vite. Su queste va bene, su quelle più piccole, come avete visto, non riesce. Questa è da 3 cm x 3 mm di diametro. E anche questa va a fondo, quindi dovete gestirla voi. E se andate con la seconda velocità, quindi lo fate girare molto più velocemente, la cosa diventa ancora più difficile. Ora facciamo una prova con una punta Fossner. Proviamo a praticare un foro da questa parte. Tra l'altro è una punta da 35 mm, quindi dovrebbe opporre un bel po' di resistenza. Anche se questa punta, ragazzi, Fossner è della Parkside un po' sfruttata, non l'ho mai più affilata dopo la prima volta, quindi in teoria potrebbe anche non riuscire. Proviamo a velocità 1, vediamo come si comporta. E invece è andata benissimo, è riuscita a forare, è penetrata super giù di, aiuto, super giù di un 4-5 cm, comunque è andata bene. Ha avuto un accenno, diciamo, di affaticamento. Proviamo con la batteria da 4 Ah, questa è la batteria che viene data in dotazione da 2 Ah. Proviamo questa, che ha le stesse dimensioni, ma è la versione Smart. Dovrebbe dare un po' di sprint in più. Carica al massimo. Vediamo come si comporta. Rientra nell'inquadratura? Sì. Quindi vediamo se riesce a lavorare con più energia. Decisamente sì. Riesce ad avere uno sprint maggiore, però comunque anche in quel modo, con la batteria da 2 Ah è riuscito a lavorare. Quindi per quanto riguarda lavori sul legno, vi ho fatto gli esempi diciamo più pratici. Facciamo anche un paio di fori con delle punte che non siano estreme. Queste sono della Parkside. Usiamo una punta da 8 mm, però dato che abbiamo la punta di trapano già montata, vi faccio vedere pure che gira perfettamente dritto. Quindi dobbiamo mettere a fuoco però qua dove c'è la punta di trapano. Vabbè facciamo così che è meglio. Come vedete è perfettamente dritto. Va bene. Facciamo quindi questa prova di foratura. Qua abbiamo il selettore impostato su foratura. Quindi c'è il rischio che foro il bancone. Va bene. Mi fermo un poco prima. Vediamo come va. Siamo a velocità 2. Ok. Con questo tipo di punta che già vi ho recensito, che ha una presa molto aggressiva, a velocità 2 si ferma. Proviamo a velocità 1. Avete visto esce da sola, si svita e rientra da sola, perché si avvita. Sono delle punte molto, molto aggressive. Avete visto come va giù? Sono molto difficili da gestire. Ha questo profilo così particolare. Proviamo una punta di trapano, diciamo, più normale. Almeno ci rendiamo conto un po' meglio delle sue prestazioni. Vabbè dai, usiamo le punte che troviamo all'interno della confezione, così a che ci siamo diamo un'occhiata. Quindi punta da 8 mm. Come vedete è completamente diversa come profilo, come tipo di punta. Questa, ripeto, è molto molto difficile da gestire. Quindi mettiamola nel mandrino e facciamo lo stesso tipo di lavoro. Vediamo pure se questa punta è dritta. E insomma... Beh, non voto da 1,10. Diamo un 7, 7,5. Perché non è drittissimo, però va bene. Allora proviamo sempre con velocità 2, con le stesse caratteristiche di poco fa, senza variare nulla, e pratichiamo un foro qua a fianco. È andato benissimo. Ho fatto un'unica discesa. In realtà bisogna arretrare per far fuori uscire i trucioli, però volevo farvi vedere che riesce comunque, altrimenti poteva sembrare che tornava indietro, perché non riusciva. Vedete i trucioli poi si impastano e quindi bisogna farli fuoriuscire. La pratica giusta sarebbe questa. Tra l'altro ho beccato pure un nodo. È riuscito a farlo perfettamente nonostante il nodo. Proviamo qua. Ok, questo è il modo giusto di praticare i fori. Affondare, tornare indietro e poi affondare di nuovo. Quindi anche le punte che vengono date in dotazione, dai, alla fine vanno bene. Almeno per questo tipo di lavoretti vanno bene. Ma prima che mi linciate, perché non mi ero reso conto di avere ancora la batteria da 4 Ah, mettiamo la batteria originale e proviamo a fare lo stesso lavoro, con le stesse caratteristiche, perché se voi lo comprate così, volete utilizzarlo così e volete sapere se anche così riesce a farlo. Quindi rifacciamo lo stesso foro qua a fianco, sempre velocità 2, stesse caratteristiche. Magari in modalità foratura, perché così era in senso anti-orario, quindi via. Unico colpo è andato benissimo. Ok, quindi riesce a farlo. Questa è una punta da 8 mm. In teoria con altre potrebbe anche riuscire, ma atteniamoci a quello che troviamo in dotazione, senza strafare, anche se forse viene data in dotazione anche la punta da 10. Ma sì, esageriamo, dai, su questo. Dato che viene data in dotazione, facciamo la prova anche con la punta da 10 mm. Questa invece è molto storta. Si vede chiaramente. Va bene. Proviamo quindi qua a fianco. Qua c'è il rischio davvero di andare un pochettino più in basso. Va bene, dai, cercherò di stare attento. Sempre velocità 2, con la stessa caratteristica. Ok, forse sono andato un pochettino troppo in profondità, però è riuscito a farlo senza nessun problema. Proviamo di nuovo qua. Ok, riesce a farlo. Per fare la prova sul metallo utilizzerò le punte di trapano Parkside Performance, che io sto trovando davvero eccezionali. Va bene. Proviamo quindi a praticare un foro su questo pezzo di metallo pieno, da 8 mm. Questo è olio da taglio. Io lo metto sempre con la boccettina in questo modo. Poi vi lascio il link, così se volete comprarlo, evitate di spruzzare e non dare tutto di olio da taglio. Metto velocità 1, perché per il metallo si devono utilizzare delle velocità basse, anche se con questi diametri non è proprio, diciamo, fondamentale. Però mi attengo, diciamo, a questa regola. Adesso proviamo e vediamo come si comporta. Aggiungiamo un pochettino di olio da taglio, però come avete visto, sia l'avvitatore, il trapano avvitatore, che la punta di trapano sta andando benissimo. Si formano questi trucioli, quindi abbiamo la conferma che comunque la punta è ben affilata, e anche la rotazione è adeguata. Proviamo a mettere velocità 2 e gestire noi con il tastino. Vediamo quanto sia gestibile. Ok, è andata a meraviglia, è riuscito a forare senza problemi, è stato pure molto veloce, un foro perfetto, d'altra parte funziona bene la punta, funziona bene il trapano. Abbiamo avuto su questo metallo pieno da 8 mm, forse addirittura 10, no, 8 mm, siamo riusciti a forare senza problemi, è stato davvero veloce, mi è piaciuto. Rimane a questo punto la prova sul cemento, quindi proviamo su questo mattone, utilizzerò però in questo caso delle punte di buona qualità, perché per quanto possono essere buone quelle della Parkside, preferisco fare questo test un pochettino più estremo con la punta Bosch. Andiamo inizialmente con una punta da 8 mm. Allora, siamo pronti, mettiamo modalità percussione, tra l'altro ci sarà tantissimo rumore, e questa parte come vedete si muove, quindi molte percussioni verranno dissipate, si perderanno, perché più è rigida la superficie sulla quale diamo il colpo, più viene assorbita la percussione, in questo modo invece si disperde, comunque avrà lo stesso il suo effetto, quindi velocità 2, modalità percussione, iniziamo su questo pezzo in cemento, ho messo un pezzo di metallo sotto per evitare di fare danno sulla superficie, e queste sono punte multimateriale, vi lascerò il link anche di queste. Come avete visto è andato senza battere i cigli, è riuscito a forare perfettamente, ha rallentato leggermente, ma davvero poco, ma stiamo parlando di una punta da 8 mm sul cemento, proviamo a questo punto con una punta da 10 mm, e poi con questa prova su questo materiale abbiamo finito, quindi questa è una punta da 10 mm, nuova tra l'altro di questo set ancora non l'avevo utilizzata, anche se ne ho un altro set praticamente uguale, è ormai quasi consumato, va bene dai, andiamo avanti, quindi velocità 2, sempre stesse caratteristiche, riproviamo. Perfetto, è riuscito in pochissimo tempo, quello che avete visto è tutto in tempo reale, il trapano non è nemmeno caldo, ma assolutamente è fresco, freschissimo, leggermente caldo qua, ma solamente a temperatura corporea perché ho messo la mano, per il resto non ha fatto fumate bianche, né di altri colori, non ha dato segni di nessun problema, va bene, se non fosse per la frizione, per il resto come ergonomia, peso eccetera ragazzi, per me va benissimo. Beh ragazzi, come diciamo noi in Sicilia, mi innamorai di questo trapano, davvero bello, davvero bello, mi è piaciuto, si è comportato bene in tutto, vero se avessimo una batteria da 4A come abbiamo visto riesce a dare delle prestazioni maggiori, ma anche con quella di 2A, se siamo degli hobbisti, abbiamo bisogno solo di qualcosa che ci dia la possibilità e faremo un'utenzione, appendere qualche quadro, avvitare qualche vita, sistemare un armadio che si stava scomponendo, utilizzarlo come frullatore, insomma possiamo farci un po' di tutto, avete visto che funziona bene. Poi più avanti farò un altro video nel quale farò delle prove un pochettino più estreme, ma già questo penso che come prove vi siano state utili, poi per quanto riguarda piccole caratteristiche come la rumorosità, questo è un rumore classico del motore brushless, anzi non ve l'ho detto, è un motore brushless, quindi senza spazzole, e che quindi non richiede manutenzione, poi tutte le altre caratteristiche le trovate anche sul sito, ripeto, questo video ha lo scopo solo di farvi capire se acquistarlo, se le caratteristiche che ha possono andare per voi oppure no. Detto questo, non mi rimane di nuovo che augurarvi buon anno e invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettete mi piace cliccando qua sulla campanella, insomma al meglio sul pollicione lì in su, cliccate pure sulla campanella per attivare le notifiche, ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!